Salve a tutti, siamo all'ultima parte di Dracula 4 Allora, qui abbiamo esattamente 6 chiavi Dobbiamo cliccare partendo da 5 6 2 4 1 3 In questo momento abbiamo aperto questo Bene, prendiamo la scuola La scuola è fresca, ma c'è qualcosa che sembra un pattern Under this red layer This looks like one of Vanbury's Bruegel paintings Yannick disguises stolen paintings But who does he work for? Allora, direi che possiamo andare a prendere qui dobbiamo sistemare in base ai colori centrali quindi così e così abbiamo rubato anche un farmaco da l'olio così facciamo lo che ti occhi ok ecco andiamo a fare Peter Parker la prima foto dal cino poi trovo il cino e adesso direi che possiamo andare in soffitta e adesso terrore 3, 2, 1 oh poor man Yannick's a lot more dangerous than I thought better not hang around here too much longer I should gather some evidence so that police can take me seriously ora chi ti ha detto di scendere già? ora dobbiamo fare una cosa abbastanza veloce non ho fatto la foto non ho fatto un altro ristattoo ma è un dragon questo momento è un luogo è inizia Yannick must have gone through his pockets before I came around As soon as I get out of here I'm calling the police Seeing how complex the lock system is this chest may very well contain the portrait that absolutely terrified the professor the one we've been after all this time if I can only bring back one painting it will be that one I heard some noise that must be Yannick I can't have him find me I can't have him find me and also very quickly I'm lucky the attic's not that high off the ground that was a narrow escape I'll have to tell the police and the museum about it as soon as possible Chiamiamo per l'ultima volta la rottura di scatole The Metropolitan Gun Hello Hello, it's Ellen Yannick is definitely involved in the painting theft I've found several Vanbury collection paintings at his place That's great news There was also a corpse at his place We have to tell the Turkish police about this as soon as possible Wait a second, Ellen Calm down So, there was a corpse But how did you get into Yannick's place? You're better off not knowing All right But if you broke into the scene of a crime you might be stuck in Istanbul for as long as the investigation lasts Do you have evidence to back you up? Yes I took photos and picked up a chest I think the last painting of the collection is inside The Portrait of Dracula? You haven't seen what's inside and you're already as obsessed with this painting as the professor was I hope the painting won't disappoint you Until then don't tell the authorities I'll tell them as soon as you're on the plane for New York We can't have you and this chest held up for months because of this murder tale Now, the scope is to accend to all the lights that you see there For the installation, you need to press the buttons 3, 2, 1 fra poco vedremo chi è Drapul secondo voi chi è Drapul? pensateci bene è molto comprensibile benissimo abbiamo finito il gioco stavolta mi sono usciti 290 l'altra volta mi sono usciti 390 vabbè comunque finalmente abbiamo finito questo gioco posso disistrambarlo e non devo l'ora di farlo prima di tutto perché Drapul Drapul è biondo oh mio Dio vabbè inoltre direi che vi sconsiglio altamente di stannare questo gioco banditano proprio della lista dei giochi non ci giocate cancellatelo non cancellate questo gioco e una cosa piacere guardate uscirà il seguito uscirà il seguito vabbè io finalmente premo il tasto esce e cancello questo gioco arrivederci